Ciao a tutti, sono Marta Giuliano, ho 30 anni, vengo da un piccolo paese della provincia di Cuneo e vivo a Roma da 11 anni. È il mio undicesimo anno anche di Giro d'Italia e ogni anno è una grandissima emozione. Quest'anno siamo in carovana con quattro mezzi, io sono la responsabile di altri tre ragazzi e all'arrivo di ogni tappa facciamo una coreografia. Intanto sta andando su Italia 1 un programma che ho registrato a febbraio che si chiama Venus Club dove ci sono intermezzi musicali ed io e altre due ragazze facciamo un po' di animazione e un po' di spettacolo. Ciao a tutti! Ciao a tutti!